Allora, quello che vedete adesso è l'arte del Ikizukuri, che è la capacità di tagliare pesce e lasciarlo ancora in vita. Macabra, macabra, arte culinaria giapponese. E mia moglie è stata una cena di lavoro, ho ordinato sushi e non si aspettava che gli arrivava in questo modo. E ha sorpreso tutti quanti i partecipanti alla cena. E mi ha mandato il video e io l'ho voluto condividere con voi perché queste anche sono delle realtà che succedono qua in Giappone, che si verificano qua in Giappone. Perciò si può ordinare, è una cosa che c'è, già su internet troverete tanti video al riguardo.